Convergenza S.P.A., operatore di tecnologia integrato, attivo nei settori telecomunicazioni, energia e mobility con il network Evo, Electric Vehicle Only, rende noto di aver sottoscritto un accordo tecnico CD di Peering con Sky Italia S.R.L., operativo a partire dal 21 aprile 2020. Tale accordo tecnico di Peering consentirà ai clienti Ultra Broadband di Convergenza di poter sottoscrivere un abbonamento con Sky relativo all'offerta a pagamento Sky via Fibra. Rosario Pingaro, CEO e presidente di Convergenza, ha così commentato «Abbiamo sottoscritto questo accordo per offrire ai nostri clienti la possibilità di sottoscrivere un abbonamento con Sky relativo all'offerta a pagamento Sky via Fibra di Sky, a cui vanno i nostri ringraziamenti per la proficua collaborazione. Convergenza è una realtà dinamica e in crescita che sta investendo molto in tecnologie e innovazione per offrire anche alla clientela del Sud Italia e non solo servizi di alto livello nel settore TLC. Per la sottoscrizione dell'accordo con Sky, Convergenza S.P.A. si è avvalsa dello studio legale Gallotto di Milano.